Arriva il closing, l'ERG cede la centrale cogenerativa di Priolo, asset in mano agli elvetici di Akarnar Energy. ERG ha perfezionato attraverso la propria controllata ERG Power Generation il closing con Akarnar Energy, società controllata da Akarnar Assets per la cessione dell'intero capitale di ERG Power, società che proprietaria e gestisce la centrale cogenerativa Combened Sickle Gas Turbine di Priolo Gargallo a Siracusa. L'operazione si legge in una nota, si è conclusa in linea con quanto comunicato lo scorso 29 giugno a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive previste nell'accordo di vendita e incluso il completamento della procedura Golden Power presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'intesa prevede inoltre alcuni round-out che porterebbero la valorizzazione dell'impianto a complessivi 205 milioni e mezzo. La centrale con una potenza installata di 480 MW, una produzione media annua di circa 2,4 TWh di energia elettrica e 1 milione e 200 mila tonnellate di vapore, produce energia principalmente per il sito industriale di Priolo attraverso contratti di lungo periodo. Il funzionamento della centrale, spiegato dalla società, è garantito da 144 persone incluse nel perimetro della cessione. La cessione di Eric Power ha commentato l'amministratore delegato Paolo Merli che ci consente di completare la nostra trasformazione in un modello di business interamente focalizzato sulla produzione di energia eolica e solare, un passo fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo Net Zero che il gruppo si è posto e previsto nell'ambito del piano ESG. Eric è oggi al 100% una società rinnovabile, hanno notato gli analisti di Equita, sottolineando che il valore della vendita è in linea con le indicazioni di piano e già inclusa nella Guidance 2023. La notizia della vendita è positiva per Intermonte che parla di valore della transazione in linea con le nostre valutazioni. Concorda anche Banca Acros che ricorda come il closing dell'operazione saggetto tra le altre cose al completamento della procedura di Golden Power sia atteso entro la fine dell'anno.